Ma bentornati in una nuova puntata di Whatsapp Economy. Io sono Giorgio e questo è un canale di divulgazione economica. Sì, cazzo l'ho detto, zione! Sono famoso per le zeta su internet, lo sapete? Vi invito a iscrivervi per questo. Di cosa ci occuperemo oggi? Ci occuperemo di criptovalute e in particolar modo di Bitcoin, che è il re delle criptovalute, perché nonostante esistano al mondo più di 2000 tipologie di criptovalute, il Bitcoin detiene una quota dei pari al più del 50%. E quindi ci occuperemo in particolar modo di questo tipo di criptovalute. Ci domanderemo come funziona, qual è la sua storia, è veramente una moneta, sarà la moneta del futuro? Tutte queste domande avranno alla fine del video una risposta per voi. Iniziamo dall'inizio. 31 ottobre 2008, la nascita formalmente dei Bitcoin. Grazie a un paper scritto da Satoshi Nakamoto. In realtà uno pseudonimo e ancora ad oggi non sappiamo realmente chi ha scritto quel paper. A dire il vero, il 6 marzo 2014 riuscirono a trovare un Satoshi Nakamoto che viveva in California ed era un ex ingegnere. Davanti alle telecamere, questa persona disse che avrebbe detto tutta la verità al primo giornalista che gli avrebbe offerto un pranzo. Ha offertogli il pranzo o ha semplicemente detto che no, lui non era il vero Satoshi Nakamoto e che non aveva nulla a che fare con la tecnologia Bitcoin. Fatto sta che il 9 gennaio 2009 inizia a funzionare il protocollo e nel 2010 avviene la prima transazione di un bene materiale grazie al Bitcoin. E cioè una pizza per un valore pari a 10.000 Bitcoin. L'idea di Nakamoto era quello di costruire una valuta digitale, decentralizzata, anonima e sicura. Ma come ci insegna ormai da 300 anni a questa parte la prima rivoluzione industriale le grandi innovazioni tecnologiche non sono nient'altro che un accrocchio ben congegnato di idee passate e i Bitcoin non sono un'eccezione. Infatti ad esempio la blockchain, che è la tecnologia, la base dei Bitcoin non è nient'altro facente parte di una tecnologia molto più ampia che viene definita da Distributed Ledger Technology che addirittura ha i suoi albori fin dagli anni 90 ed è proprio in quegli anni ad esempio che è stato definito un protocollo che poi è diventato un pilastro della blockchain e cioè il proof of work. Di nuovo non sono un tecnico e quindi non approfondiremo in questo canale però se volete vi lascio in descrizione qualche fonte per approfondire in autonomia. Anche per quanto riguarda l'idea di valuta digitale i Bitcoin non sono i primi al mondo infatti già durante gli anni 90 e 2000 ci sono stati alcuni tentativi di creare una valuta digitale però comunque tutti fallimentari. Se ci pensate bene però la data di nascita dei Bitcoin non è del tutto casuale. Qualche mese prima del 31 ottobre 2008 è successo qualcosa di interessante di determinante se vogliamo soprattutto per alcune nazioni ed in particolare ad esempio l'Italia. Sto parlando proprio della crisi finanziaria del 2008 con il conseguente fallimento di Lehman Brothers. Ora, qual è una delle tante reazioni umane che possono svolgersi dopo questo evento così catastrofico all'interno dell'economia non solo americana ma anche mondiale? Una delle reazioni umane può essere quella del rigetto della non accettazione di un sistema che ti ha portato a questa situazione qui di crisi economica. Ed è proprio uno degli aspetti del Bitcoin. Bitcoin non sono solo un'innovazione tecnologica o economica ma anche una risposta ideologica a un sistema finanziario precostituito. Io ho visto alcuni documentari riguardo i Bitcoin e soprattutto per gli early adopters dei Bitcoin vigeva soprattutto un'ideologia libertaria o quasi anche anarchica e cioè la non accettazione di un'entità superiore che potesse decidere la quantità di moneta all'interno dell'economia e quindi di conseguenza influenzare anche la vita dei singoli cittadini. E inoltre non accettavano il fatto che qualsiasi transazione avveniva tramite le banche il sistema bancario era tracciata e assolutamente non anonima. Quindi c'è praticamente un rigetto riguardo le strutture finanziarie di quel tempo e cercavano di costruire qualcosa di nuovo. Al contrario del sistema vigente dove un'entità addirittura superiore alla politica può decidere quanta moneta emettere o ritirare all'interno del mercato in base alla situazione economica nel caso dei Bitcoin ogni singolo cittadino può creare i propri Bitcoin. Basta avere un computer abbastanza potente per eseguire determinati calcoli. In questo caso i cittadini vengono chiamati miners. Un algoritmo ideato sempre da Satoshi Nakamoto decide quanti Bitcoin possono essere emessi in un determinato tempo e così si ha l'emissione dei Bitcoin in maniera decentralizzata. Io ogni volta che finisco di vedere un documentario sui Bitcoin vedo quelle persone, soprattutto quelli ad adopter specifico come quasi una setta delle persone invasate per una nuova tecnologia che secondo loro può rivoluzionare il mondo dall'oggi al domani e magari pensare, no, si convincono a vicenda no, ma questa è una figata, questo funziona questo rivoluzionerà il mondo fino ad adesso abbiamo sbagliato tutto da d'ora in poi ci sarà una nuova era finanziaria tutta anonima, eccetera, eccetera che è un aspetto molto interessante e assolutamente ideologico che magari ha contribuito alla diffondersi del Bitcoin anche al di fuori degli early adopters per l'appunto. Un altro punto interessante è che in realtà l'idea di decentralizzare le emissioni di moneta non è anche qui del tutto nuova infatti il sistema odierno di banche centrali come la Fed, la BCE o la Bank of Japan è praticamente del tutto nuovo se guardiamo il tutto lungo l'arco della storia infatti dal Medioevo fino a quasi la metà del 1800 il paradigma era quello di numerose banche addirittura a volte anche private che stampavano moneta per il regno o lo Stato alcune volte più banche avevano il diritto di stampare la moneta per conto dello Stato e quindi entrare in competizione e questo comunque nonostante fosse una paradigma di emissione di moneta decentralizzato creavano pochi problemi e le banche continuavano comunque a fallire ma oltre a questi esempi pratici addirittura due premi Nobel come Tobin e Hayek hanno ipotizzato la possibilità di emettere moneta in maniera del tutto decentralizzata quindi senza l'utilizzo dei banche centrali che possano decidere quanta quantità di moneta emettere all'interno dell'economia in un determinato momento e quindi l'idea dei Bitcoin è quello di gestire la moneta direttamente dai cittadini in modo appunto decentralizzato dopo il 2010 e la prima transazione acquistando una pizza per ben 10.000 Bitcoin la storia di questa criptovaluta è più o meno conosciuta a tutti infatti all'inizio proprio grazie alle sue proprietà di privacy e di garanzia di esecuzione della transazione veniva utilizzato per acquistare beni illeciti e famoso è diventato il sito internet Silkroad che venne definito a quel tempo l'Amazon della droga dove appunto si vendeva e acquistava droga grazie all'utilizzo di Bitcoin questo episodio ovviamente segnò l'opinione pubblica ma nonostante ciò si continua a sviluppare il Bitcoin e iniziarono a emergere i primi mercati di scambio ufficiali per questa criptovaluta e il resto è storia numerose truffe e società di scambio di Bitcoin che falliscono un primo picco del valore dei Bitcoin all'inizio del 2014 per poi avere un'esplosione totale durante tutto l'anno del 2017 fino a raggiungere agli inizi del 2018 un valore di un Bitcoin pari a 20.000 dollari dal picco raggiunto all'inizio del 2018 il Bitcoin praticamente diviene famoso per la sua caratteristica principale e cioè la volatilità del suo valore infatti da quel momento in poi non riuscirà più a raggiungere quei valori e oscillerà costantemente ad un intorno tra i 12.000 e i 5.000 dollari il perché del valore così altalenante dei Bitcoin è presto detto sostanzialmente non ha nessun valore intrinseco il Bitcoin e non è garantito da nessuna autorità come lo può essere il dollaro o l'euro da parte della Fed o la banca centrale europea alcuni economisti hanno cercato di trovare una correlazione tra il valore del Bitcoin e il rafforzamento della blockchain o la sua diffusione d'utilizzo detto ciò rimane comunque un asset soggetto a forti speculazioni attacchi hacker e tutta un'altra serie di fattori che hanno ben poco a vedere con il vero valore del Bitcoin tutto molto interessante Giorgio abbiamo definito molto brevemente cosa sono i Bitcoin la loro storia le loro problematiche eccetera 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 ma qui manca secondo me il momento smart work perché effettivamente non ci siamo fatti una domanda importante e cioè i Bitcoin sono veramente una valuta o comunque potranno effettivamente diventare la moneta del futuro perché in realtà la risposta ad oggi è che i Bitcoin non possono essere definiti una moneta e quindi di conseguenza il loro nome più esatto non sono criptovalute Bitcoin come Ethereum eccetera eccetera non è criptovalute come tutti chiamano oggi questi asset finanziari bensì proprio criptoasset e adesso vi spiego il perché prima della spiegazione giusto per farvi convincere ancora di più di quello che sto per dire sentite cosa ne pensa una personalità così secondaria all'interno dell'economia europea maledizione il nostro Marione Draghi ci dice che per lui le criptovalute e di conseguenza anche i Bitcoin non possono essere considerate delle currency e cioè delle valute perché dice questo? per capirlo bisogna che comprendiamo qual è la funzione della moneta all'interno dell'economia come ho già spiegato all'interno del video dei mini bot la moneta all'interno dell'economia ha tre funzioni mezzo di scambio unità di conto e riserva di valore per quanto riguarda l'unità di conto sul Bitcoin come sulle altre criptovalute non abbiamo più di tanto problemi lo abbiamo già visto prima io posso dire quella pizza vale 10.000 Bitcoin metà pizza 5.000 Bitcoin perfetto posso contabilizzarlo tranquillamente qualsiasi bene e servizio tramite i Bitcoin sulle altre due componenti iniziano i problemi per quanto riguarda la riserva di valore lo abbiamo visto già prima una delle caratteristiche principali della Bitcoin è proprio la volatilità del valore di questo asset finanziario e questo ovviamente non funziona bene questa caratteristica affinché possa permettermi appoglierla appunto una riserva di valore perché il cittadino che possiede il Bitcoin un giorno può comprarsi tramite 10 Bitcoin una Porsche e il giorno dopo può comprarsi una Panda e questo ovviamente questa caratteristica non funziona bene per preservare il valore della mia ricchezza e quindi a sto punto è molto meglio la moneta classica che mantiene un valore costante nel tempo e che quindi mi permette di fare delle scelte più consapevoli e razionali invece per dimostrarvi quanto i Bitcoin non possiedono questa caratteristica di mezzo di scambio posso enunciarvi qualche statistica come ad esempio nel 2019 solo 24 milioni di persone al mondo utilizzavano i Bitcoin solo 4 su 500 dei principali e-commerce al mondo accettavano come metodo di pagamento i Bitcoin e inoltre il valore complessivo di tutte le criptovalute nel mondo era pari a 230 miliardi di euro che è praticamente il 20% del valore di tutte le monete e banconote emesse all'interno dell'eurozona e anzi in realtà questa statistica dipende anche molto da quando si va a calcolarla perché basta spostarsi solo a inizio 2018 e vediamo come il valore di tutti le criptoasset arriva a quasi 800 miliardi di euro che è un po' diverso da 230 miliardi fatto sta che sta a sottolineare per l'appunto la estrema volatilità di questi criptoasset ma voi mi potreste dire questi dati non contano nulla perché se ci pensiamo potrebbe essere benissimo un fenomeno in crescita e quindi non può giustificare a sufficienza questa mancanza di mezzo di scambio da parte delle criptoasset e potrei anche essere d'accordo con voi ma ci sono ulteriori problemi che minano appunto questa funzione infatti i bitcoin non sono garantiti da nessuna entità e quindi se tu vai da un esercente a pagare qualcosa con i bitcoin l'esercente può tranquillamente rifiutarsi di prestare il proprio servizio facendosi pagare con dei bitcoin e questo ovviamente mina lo scopo di mezzo di scambio e in più i bitcoin possono essere hackerati o persi e nel caso di perdita o di hackeraggio di bitcoin nessuna autorità può venirti incontro e cercare di recuperare il proprio il proprio valore perso cosa che in realtà può succedere al contrario per quanto riguarda i conti corrente e le transazioni online ma anche qui voi mi potreste dire se i bitcoin riescono a raggiungere un utilizzo abbastanza ampio lo stato potrebbe accettarli come metodo di pagamento e quindi potrebbero cadere anche questi due problemi che ho appena enunciato un'osservazione giusta lo ammetto anche se è tutto da vedere se accadrà in futuro ma detto ciò ci sono ulteriori problemi che minano la capacità del bitcoin di diventare un mezzo di ripagamento un mezzo di scambio e cioè ad esempio l'efficacia nella velocità di transazione se ad esempio il circuito visa esegue 60.000 transazioni al secondo i bitcoin a caso della sua tecnologia può eseguire al massimo 7 transazioni al secondo e inoltre i tempi di attesa per l'avvenimento della transazione se per appunto i circuiti tradizionali sono all'incirca pari a qualche secondo per i bitcoin non vale le stesse cose bisogna attendere alcuni minuti per avere la certezza che la transazione sia avvenuta ed infine un'ultima problematica che non consentirà molto probabilmente ai bitcoin di diventare un metodo di pagamento molto diffuso è un'altra caratteristica ideata da Satoshi Nakamoto per quanto riguarda il funzionamento dei bitcoin infatti essendo una tecnologia peer-to-peer che quindi tutti potrebbero creare nuovi bitcoin ha imposto un limite alla creazione di bitcoin pari a 21 milioni di bitcoin che verranno raggiunti verosimilmente tra una circa ventina d'anni alcuni presuppongono altri presuppongono addirittura nel 2140 comunque nonostante questi dettagli questo limite di 21 milioni di bitcoin crea numerose problematiche riguardo le politica monetaria e quindi anche riguardo la crescita economica di un determinato paese infatti ad esempio prendiamo l'evento attuale crisi da coronavirus come sapete tutte le banche centrali europee hanno emesso nuova moneta da poter distribuire all'interno di economia per stimolare appunto la crescita economica questo molto probabilmente non potrebbe accadere con i bitcoin perché sono prefissati non ci può essere una nuova emissione di nuovi bitcoin superata alla soglia dei 21 milioni quindi un'eventuale economia basata sui bitcoin che soffre una crisi economica non potrebbe soffrire della politica monetaria espansiva per poter riprendere la propria crescita perché per l'appunto i bitcoin sono fissati hanno un tetto soprano il quale ovviamente non si può oltre minare per non parlare dei danni ambientali infatti se all'inizio della storia dei bitcoin era molto facile creare dei nuovi bitcoin man mano proprio a causa dell'algoritmo ideato da Satoshi Nakamoto diventa sempre più difficile minare bitcoin e bisogna avere sempre più potenza di calcolo aggiuntiva per poter minare ancora meno bitcoin e questo crea numerosi problemi a livello ambientale di costo di energia ed infine per distruggere anche uno degli obiettivi del bitcoin cioè quello della decentralizzazione di questa moneta in realtà si è visto che tutto ciò non sta accadendo proprio per a causa dei motivi appena enunciati e cioè sul costo dell'energia sulla difficoltà di minare nuovi bitcoin infatti i miners cioè quelle persone che possono minare i bitcoin sono concentrati soprattutto in nazioni dove il costo dell'energia è estremamente basso ed è proprio a causa di questo motivo se poche imprese localizzate in determinate parti del mondo dove il costo dell'energia è molto basso riescono a produrre oltre il 70% di tutti i bitcoin prodotti nel mondo e se noi utilizziamo l'indice di Gini che è un indice che ci dice la distribuzione di una determinata risorsa o bene all'interno dell'economia dove 0 sta per risorsa equamente distribuita e 1 per una sola persona a tutte le risorse a disposizione l'indice di Gini per i bitcoin è pari allo 0,9 e quindi questa moneta nata con l'obiettivo di decentralizzazione in realtà sta avvenendo molto male e molto poco col passare del tempo e insomma come spiegare a Satoshi Nakamoto che molto probabilmente il suo bitcoin fallirà in uno dei suoi obiettivi e cioè quello di stravolgere i mercati finanziari attuali nonostante ciò qualcosa di buono dal bitcoin si può prendere innanzitutto sicuramente la tecnologia e cioè quello della blockchain ma ha dato anche una spinta a livello di innovazione economica infatti ha dato la spinta alla creazione di stable coins cioè delle comunque delle digital currency però con una differenza rispetto al bitcoin e cioè l'esclusione della volatilità del prezzo per l'appunto poi prende il nome di stable coins queste stable coins al contrario dei bitcoin sono collegate a qualche bene reale che esiste che ha un valore mentre i bitcoin non hanno alcun valore e per questo soffrono di questa volatilità tra le più famose delle stable coins c'è la libra cioè la moneta di facebook di cui ancora si sa molto poco quindi il sogno di una digital currency che era stato già immaginato da Milton Friedman nel 1999 ancora non è infranto anzi ha posto numerose pressioni nei confronti delle banche centrali che si sono poste la decisione di effettivamente trasformare le proprie banconote e monete in valuta digitale introducendo il discorso delle central bank digital currency però questa è tutta un'altra storia e in questo senso soprattutto la banca cinese e negli ultimi giorni la banca centrale europea hanno fatto dei passi avanti per quanto riguarda una moneta digitale direttamente emessa dalla banca centrale di un paese o di una nazione però ripeto questa è un'altra storia e quindi ve la racconterò in un nuovo video prossimamente per adesso vi saluto ringrazio per essere arrivati fin qui spero che io sia stato abbastanza chiaro e inoltre saluto come al solito gli abbonati che mi sostengono ogni giorno e che posso avere comunque un contatto diretto con loro tramite telegram dove ogni mattina comunque do anche le notizie economiche quindi se vi interessa avere un briefing sulle notizie economiche del giorno potrete accedere su telegram abbonandovi a solo 2 euro al mese anzi 1 euro e 99 al mese detto ciò ci vediamo al prossimo video e ciao niente boh boh ciao